C'era molta gente che si aspettava una diversa collocazione della regione Campania. Ora, premesso, come vi dirò fra un attimo, che a me le classificazioni non fanno né caldo né freddo, noi ci siamo dati una linea chiara e lavoriamo sulla base di questa linea e degli obiettivi che noi dobbiamo perseguire in Campania. Ancora in questi giorni c'è qualche imbecille di amministratore della Campania che viene invitato, va in giro per le televisioni semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania. Amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito, un dito per controllare la movita, per mettere ordine, cioè per dare una mano a contenere il contagio. Ebbene, questi soggetti vengono ormai utilizzati come lo scemo del paese, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania. Per essere brutalmente chiari, io credo che non dobbiamo aspettare il momento nel quale il contagio ha un'esplosione e diventa incontrollabile, ma dobbiamo intervenire prima. Lo so che è più difficile, lo so che quando la situazione sembra tranquilla è più duro dover dire guardate che dobbiamo attuare le restrizioni, ma la prevenzione significa questo, intervenire prima che il problema scoppi. Se no è perfettamente inutile. Avrei preferito la chiusura di un mese di tutto perché questo ci avrebbe aiutato a frenare il contagio, anziché avere un calvario di ordinanze, di decreti, uno ogni 48 ore, che ha finito per creare sconcerto nei cittadini, per non dare mai la percezione della gravità della situazione, per creare conflitti fra le categorie economiche, perché ammessi agli altri no e alla fine per creare anche conflitti territoriali.